come vedete sono qui all'interno del mio canva ho un file già pronto in cui si trovano tre elementi diversi il format è quello video lo riconoscete dal play qui in alto ed è il format in cui attualmente è presente questa possibilità di mettere un timing quindi di decidere quando partono le animazioni all'interno di un nostro prodotto canva per le presentazioni invece questa funzionalità non è ancora attiva ma scopriremo insieme dopo che vi avrò mostrato come farlo per il video come ingannare un pochino canva e riuscire a temporizzare lo stesso una presentazione con un piccolo trucchetto vediamo invece nel format video nel caso per voi vada bene o vogliate proprio temporizzare un video come far comparire questi tre elementi in tempi successivi allora il primo consiglio risparmia tempo in assoluto è sempre quello di andare all'interno della funzionalità animazione nelle animazioni per la pagina e passando con il mouse verificare che magari non ci sia una combinazione che ci piace che abbia una una tempistica che ci potrebbe andare bene per esempio questa come vedete non è malvagissima perché mi fa comparire la mia scritta in un primo momento e le altre due bitmoji in due secondi quindi io potrei anche intanto selezionarmi questa e poi personalizzarla quindi ve lo faccio vedere clicco sulla mia animazione che però non è perfetta come voglio quindi vado ad aggiustarla clicco sul mio elemento che mi permette di far comparire il menu del timing è nascosto sotto i tre pallini oppure con il tasto destro sotto la voce mostra durata vedete che quando io ho cliccato su mostra durata qui sotto è comparsa questa piccola barra viola vado a farvelo vedere con un po di zoom della parte bassa del mio schermo eccolo qui questa barra viola mi rappresenta per quanto tempo questa questo elemento compare nella mia diapositiva quindi dal primo secondo fino all'ultimo se io lo voglio far comparire dopo la scritta semplicemente trascino e questo elemento fino a che ad esempio la scritta non finisce la sua animazione ecco qui quindi io ho detto a canva che voglio che la mia bitmoji quella che ho cliccato adesso in questo momento compaia quando finisce di comparire la scritta diciamo anche che vi voglio dare un certo tempo quindi voglio che non so per esempio stia un secondo e mezzo sullo schermo e poi voglio che scompaia successivamente vado a dire che il terzo elemento per cui anche sto visualizzando la durata invece vada a comparire dopo che è scomparso il secondo quindi scorro finché eccolo qui l'avete visto è scomparso il secondo da lì comincio a far comparire il mio terzo elemento in linea teorica come indicato dagli altri canva creator che hanno già canva completamente aggiornato su queste temporizzazioni io dovrei poter vedere qui tutti e tre i riquadri insieme cioè mi spiego esattamente quando inserisco un audio e vado a farvelo vedere adesso se io inserisco non so a metà diapositiva qui posso vedere che l'audio comincia prima della mia animazione in questo caso animazione del terzo elemento dovrebbe essere possibile prima o poi da tutti gli account canva vedere anche i box degli altri elementi temporizzati senza che scompaiano vicendevolmente insomma vedete che qui posso vedere solo un box alla volta ma è segnalato da diversi creator che l'hanno già attivo che si potranno vedere in contemporanea tutti i box del timing sia quelli degli audio che delle animazioni come si vedranno se voi passerete sul mouse qui sul box viola che vi permette di che permette di vedere la vostra animazione qui comparirà un piccolo segnale che vi consentirà di espandere proprio la zona del timing delle animazioni e quindi vedrete comparire tutte le altre barre un po come si fa con questa con questo simbolino qui che ci espande la barra qui sotto al momento nel mio account posso vedere queste barre solamente una alla volta in questo modo comunque o posso cercare che il testo per esempio rimane per tutto la durata del mio video il elemento centrale a questa durata e il terzo elemento a questa posso vedere una piccola anteprima da qui modo da fare degli aggiustamenti rapidi oppure posso andare a vedere l'animazione temporizzata totale ecco qui quindi questo permette anche con foto video qualsiasi elemento voi mettiate qui all'interno di temporizzare con il timing che decidete voi per le entrate e per le uscite se invece avete una presentazione vado a presentarvi un piccolo piccolo trucchetto crea un progetto simile ti vado sempre a mettere tre elementi che voglio animare quindi due saranno le mie due solite bitmoji una due e una testo giusto per fare un esempio poco complicato ma questa cosa se avete pazienza e esigenza si può fare benissimo anche con molti più elementi diventa ovviamente un po un dispendio di tempo e vado a considerare innanzitutto prima di tutto sempre le mie animazioni quelle pre confezionate quindi qui sopra e nel menu vado a vedere che non ci sia qualcosa che faccia più o meno al caso mio se non c'è con il timing che voglio io allora vado innanzitutto a contare quanti sono gli elementi che voglio animare in questo caso uno due e tre non ci sono elementi che stanno fissi ci potrebbero essere ma in questo caso non ci sono se ne ho tre vado a duplicare la diapositiva in modo da avere tre copie della stessa identica diapositiva e in questo caso vorrò far comparire il testo subito fin dall'inizio quando non ci sono ancora le mie bitmoji quindi levo le due bitmoji e metto l'animazione del testo per esempio a me piace molto quella macchina da scrivere ecco qui la metto solamente in entrata quindi io voglio che la mia il mio testo entri ma non se ne vada e che permanga vado nella mia seconda diapositiva in cui il testo non è animato me ne accorgo da qui perché c'è scritto solo animazione non c'è il nome dell'effetto e nella mia seconda parte dell'animazione voglio che compaia la bitmoji qui a sinistra ma la quella di destra no quindi levo subito la bitmoji di destra la sinistra l'animo velocemente non so per esempio in salita ecco e questa volta la voglio far scomparire quindi voglio che entri ed esca quindi lascio animate entrambe magari metto una velocità diversa un pochino più lenta per apprezzare meglio l'effetto nel terzo il testo deve rimanere la bitmoji di sinistra l'ho fatta scomparire con la precedente animazione quindi la tolgo e devo far comparire semplicemente questa quindi non so la faccio comparire sempre dal basso solo in entrata magari questa volta molto velocemente ecco qui ci sono anche tutte le ovviamente le animazioni con delle particolarità quindi magari questa animazione potrei farla anche entrare da destra invece che dal basso in questo modo ve lo vado a far vedere dalla modalità presentazione quando io inizio la mia presentazione finché non do il clic o la riproduzione automatica se l'avete messa automatica mi rimane il sistema solamente dentro nella mia prima diapositiva quindi camera mi fa vedere solo la prima diapositiva vado clicco in modo che compaia la seconda animazione che poi scompare quando clicco in uscita per entrare nella terza diapositiva che mi dà il terzo elemento animato ed ecco qui che sono riusciti a fare un piccolo timing anche nelle presentazioni nonostante la funzionalità non ci sia ancora attiva per questo format di canva grazie a tutti Grazie a tutti.